ciao da luci oggi vi devo presentare delle novità diciamo che mi sono arrivate l'altro giorno dalla mia amica erica fungo label che voi conoscete come fata morgana ha cambiato di recente il nome in fungo label e ho preso queste bellissime etichette questa qua adesso vi faccio vedere che la scarto davanti perché veramente molto bella comunque anche questa ancora la pellicola protettiva adesso la tolgo davanti a voi per farvi vedere perché a volte è capitato che qualcuno ricevendo le etichette pensasse che fossero graffiate in realtà la nostra amica erica ce le manda tutte con una pellicola protettiva proprio per evitare che si graffino adesso la togliamo insieme così vi faccio vedere che bella è l'etichetta diciamo senza ecco qua la pellicola protettiva vedete facciamo in questo modo guardate qui guardate che splendore è meravigliosa fondo specchio su plexiglass veramente stupenda e ora gliela rimetterò per evitare che mentre la metto via si graffi così che quando lo andrò a mettere sulla mia borsa o sul mio progettino sarà nuova nuova e non graffiata quindi ricordatevi sempre quando vi arrivano queste etichette di togliere la pellicola protettiva questa è quella che ho fatto in plexiglass trasparente voi così la vedete tutta bianca ma adesso andiamo anche qui a togliere la nostra pellicolina è attaccata molto bene ed è giusto che sia così per evitare che si graffi ecco qua guardate eccola qua guardate che spettacolo guardate è meravigliosa io ringrazio veramente la mia amica erica non vado a togliere anche questa tutta perché ho paura vedete guardate se lo mettete su qualcosa di colorato bello si vede la scritta bianca e sotto il colore del vostro progetto quindi molto molto bello deciso di prendere trasparenti e argento ma erica scusate fungolab le fa anche con fondo oro io per mio gusto personale preferisco l'argento e quindi l'ho prese colore argento ma vi assicuro che ci sono anche color oro beh questa qua facciamo che la tolgo tutta così ve la lascio ecco qua da vedere e non ve la non ve la richiudo ecco trasparente quindi non si vede bene e io le ho prese proprio per metterle su dei capi dove non volevo fosse troppo invadente la mia targhetta e quindi ho preso il trasparente che però vedete su fondo colorato fa vedere bene la scritta quindi si vede molto bene vediamo se riesco a metterle adesso vi faccio vedere anche questi ma visto che ve li devo fare vedere vi faccio vedere ecco vedete su fondo scuro per esempio si vede la scritta chiara e la la targhetta trasparente ecco qua vedete prende il colore praticamente di quello che c'è sul retro bene queste sono le targhette fungolabel ora vi faccio vedere i fiorellini faccio tutto guardate senza neanche stoppare perché mi piace così allora ho visto questi fiorellini sulla pagina sempre fungolabel e mi sono piaciuti tantissimo anche perché io ultimamente sono facendo molte borse e e e quindi mi piaceva avere anche delle applicazioni queste sono in ecopelle molto molto belle da mettere sulle mie borse e sono componibili allora vi arrivano queste buste vedete questi sono quelli colorati e questi sono i tinta unita e color pelle e li ho blu e marroni e forse anche neri vediamo sì anche neri e si possono mischiare fra di loro quindi potete scegliere le varie componenti da poter mischiare vedete qua ho mischiato la base quindi il fiore più grande marrone poi ho messo il rosa brillantinato ho messo il nero e di nuovo rosa brillantinato vi arriveranno anche i chiodini questi adesso ne componiamo uno insieme così vi faccio vedere anche quanto è semplice comporre questi fiorellini e quante possibilità avete quindi io prendo magari questo più grande lo appoggio qui ecco qua poi prendo magari colorato lo prendo più piccolino quindi questo qua che è la via di mezzo ecco qua e poi posso metterne o di un altro colore vediamo mettiamolo sul chiaro così e terminarlo magari con un altro scuretto in questo modo vedete io così mi faccio la mia composizione poi ne prendo uno a uno metto il chiodino all'interno del buchino centrale in questo modo uno a uno infilo nel buchino centrale ecco qua in questo modo girandoli poi insomma per fare in modo di dare un po di movimento e quando dovrò poi applicarli non farò altro che allargare la linguetta vedete in questo modo oppure se voglio lasciarli già composti riposti da qualche parte vedete ci sono veramente molte possibilità di combinazione a me piacciono veramente tanto per delle borse più estive più giocose questi sono fantastici se si vogliono delle cose un po più seriose un po più diciamo tinta unita un po più sulla pelle ci sono queste che sono in pelle molto 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 belle vedete potete anche farli più piccoli tipo potete comporre non so solo il fiore piccolino con la il fiore via di mezzo ecco in questo modo quindi fare una cosa più piccolina oppure potete soltanto mettere i due grandi in questo modo nel senso potete un po spaziare con la fantasia per comporli e ogni volta avrete un fiorellino nuovo perché comunque a seconda di come decidete di comporli si si crea proprio il fiorellino nuovo quindi vedete queste sono le varie componenti a me piacciono tantissimo li avevo viste proprio in pagina da erica guardate quanti bei colori ci sono c'è nero tutto lucicoso c'è il giallo c'è il rosa che abbiamo visto c'è questo bellissimo azzurro lucicoso l'arancio vedete poi c'è un bellissimo blu con tutti i luci il guardate come sono belli anche messi su usati tipo spilla ecco possiamo anche incollarli alle spille in modo da avere insomma metterle toglierlo dai nostri capi d'abbigliamento sono veramente guardate anche questo che bello ce n'è veramente tantissimi tantissimi colori tantissime possibilità per mischiarli tra loro e insomma fare delle cose veramente molto carine io ringrazio erica fungo label quindi per avermi inviato questi bellissime questi bellissimi queste bellissime applicazioni ecco non mi veniva il nome questi bellissimi fiorellini e le mie bellissime etichette vi assicuro che è molto bello il fatto che erica sia molto disponibile per aiutarvi anche a scegliere il carattere da mettere sulle vostre targhette e poi farvi vedere come 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 verrebbero quindi io vi saluto vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto vi invito a venirmi a trovare nel gruppo facebook creando e chiacchierando con luci vi mando un grosso bacione saluto anche la mia amica erica ciao ciao da luci a presto